Viaggiare per motivi di salute non è una semplice vacanza. Le esigenze sono diverse, perché diversi sono i motivi del viaggio. Da questa consapevolezza nel 2017 nasce Hospital Residence, appartamenti a Monza per il turismo sanitario. Al contrario dei comuni hotel, alberghi e bed and breakfast, Hospital Residence si rivolge a chi viaggia per motivi di salute, col fine di soddisfarne ogni attesa e necessità. Presso Hospital Residence non troverai infatti semplici camere, in cui dormire per poi subito sloggiare, bensì per i appartamenti, con bagno privato e cucina attrezzata, predisposti per accoglierti e farti sentire proprio come a casa. A tutela della tua sicurezza, inoltre, sanifichiamo gli spazi con prodotti a presidio medico. E per i letti usiamo copri materassi monouso. Cosa amerai particolarmente? La nostra tripla garanzia prenotazione blindata. Soggiorno flessibile. Cancella, cambia o rimanda le date del tuo soggiorno, senza alcuna penale. Rimborso notti. Devi ridurre la tua prenotazione perché ti dimettono prima. Ti rimborsiamo le notti che non hai utilizzato. Trovi sempre posto. Se all'ultimo momento la tua permanenza deve essere prolungata, un appartamento per te c'è sempre. Chiamaci ora per info e prenotazioni.